Anche oggi siamo sull'inchiesta quotidiano con la nostra rubrica Leonardo, la scienza contro le fake news. Abbiamo parlato questa volta di rughe, un tema molto interessante, soprattutto per chi come me ha 26 anni e ne dimostra 54, è un tema molto interessante il ringiovanimento della pelle. E che cosa c'entra con una rubrica sulle fake news e sulle bugie? Beh, è semplice. Molti ci promettono che con delle creme miracolose possiamo togliere le rughe. Ma sarà vero? Ho intervistato il dottor Giampiero Rossi, un dermatologo con ben due specializzazioni in dermatologia e in medicina preventiva. È un bravissimo dermatologo che tra l'altro ha prestato servizio gratuitamente al Melanoma Day facendo tantissime visite. Ebbene, ho chiesto al dottor Rossi di spiegarci se ci fosse un fondamento scientifico davanti all'ipotesi che delle creme potessero curare le rughe, potessero in qualche modo eliminarle, oppure se ci fossero altri rimedi. E lui ci ha fatto un articolo interessantissimo. Ha spiegato innanzitutto come è fatta la pelle, dopodiché ha raccontato come vengono le rughe. Ci sono le rughe di espressione, le rughe da sonno, le rughe gravitazionali, le rughe attiniche, che sono quelle proprio dovute ai raggi solari, ai danni dei raggi solari. E quindi ci ha spiegato poi eventualmente i rimedi da utilizzare che esistono ma non prevedono delle creme solari miracolose. Nel momento in cui andiamo a fare degli acquisti dovrebbero essere degli acquisti informati, perché non tutti possono prendere una laurea in ogni cosa che devono acquistare. Non è che possiamo laurearci in ingegneria prima di comprare casa, in ingegneria meccanica prima di comprare una macchina, in medicina prima di comprare una crema solare e in economia prima di andare a fare un mutuo in banca. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci informi, che ci dica però la verità. E quindi nell'articolo di oggi abbiamo parlato di come si trattano le rughe. Abbiamo visto che c'è un ente di controllo sulle creme che diciamo in qualche modo va ad analizzarle e gli eventuali effetti che hanno, come sono composte eccetera eccetera. Io ho detto, dottore, ma è vero che dobbiamo mettere le creme solari anche in inverno? Perché sapete, io potete facilmente vedere che non c'è molta differenza tra il colore della mia pelle e quello della mia camicia bianca, perché io non prendo molto sole. Però, voglio dire, in inverno non avevo mai messo la crema solare, ma ho sentito molti dermatologi consigliare. Questa domanda tra l'altro la giro a tutti gli amici dermatologi che mi seguono, adesso magari vi taggo così ve lo chiedo meglio, se dobbiamo utilizzarla. La risposta a parte dei pareri della comunità scientifica è che, mi dice il dottore, grazie per la domanda che dà spunto per sfatare un'altra cattiva informazione in merito. I raggi ultravioletti sono causa di danno cellulare e quindi di invecchiamento precoce e tumori della pelle, giorno dopo giorno, anno dopo anno, anche in inverno. Non dobbiamo pensare che il danno venga procurato dal calore, ma piuttosto dalla luce solare, per cui è necessario utilizzare una crema, soprattutto per i fototipi più delicati, ad alto fattore protettivo anche nelle giornate di luce invernali. Ogni dermatologo raccomanderà inoltre l'utilizzo di creme ad alto fattore protettivo dall'inizio alla fine dell'esposizione. Oggi in farmacia c'è un'ampia disponibilità. Quindi, che cosa ne pensate di questo articolo? Mi avevate chiesto proprio voi di affrontare il tema delle creme antirughe, di cosa vogliamo parlare la settimana prossima? E soprattutto i tanti amici dermatologi, farmacisti, medici, che vogliono intervenire su questo argomento e vogliono spiegarlo meglio, magari ci vogliono raccontare meglio come è fatta la pelle, come si forma una ruga, sono i benvenuti. Vi taggo così potete raccontarcelo nelle vostre storie, che poi giro sul mio profilo così le possiamo vedere tutti. Grazie mille e un abbraccio!